Dobbiamo partire dalla tua partita Andrea perché intanto non era una partita come le altre, giocavi davanti al tuo pubblico, alla tua gente, alla gente della tua regione e poi hai questa grande capacità di farti trovare pronto, giochi assieme ad un grande portiere come Domenico Ebner ma hai questa capacità di farti trovare pronto, di rispondere sempre presente in azzurro e questa è una grande dote. Sì sono contentissimo, più che della mia prestazione, della partita che abbiamo fatto tutti quanti e del passaggio del turno davanti al palazzetto di Pescara che è un po' la mia terra d'origine e sono contentissimo di aver fatto una buona partita e di aver riutato la squadra. Io avevo le cuffie però si sentiva qualche decibel in più quando parava con le luori. Eh sì, si vedeva qualche amico dagli spalti. Intanto arriva un grande risultato perché in termini di squadra ci qualifichiamo a questo ultimo turno e dimostriamo un ulteriore step di crescita, un altro step di crescita, non era facile andare a vincere in Belgio, non era nemmeno facile poi ripartire da quel più quattro questa sera perché loro erano partiti forti all'inizio della partita, col coltello tra i denti, volevano rimetterla in piedi, voi avete accelerato nell'inizio del secondo tempo. Assolutamente sì, in Belgio abbiamo vinto di quattro ma sappiamo che in Italia la partita sarebbe partita da zero a zero e siamo stati bravi a rimontarla al primo tempo e poi alla fine l'abbiamo staccati e per la panamana italiana penso sia un obiettivo grandissimo arrivare al terzo turno. Adesso c'è il Montenegro, un'avversaria tosta lo sappiamo ma queste due partite hanno dimostrato che l'Italia ha tutto il diritto di sognare. Si è visto soprattutto quanto sia cresciuta la squadra, siamo convinti che possiamo fare un ottimo terzo turno, daremo tutto quello che possiamo perché sarà l'ultimo prima delle qualificazioni e io sono consapevole che possiamo fare grandi cose con questa squadra.